Buonasera a voi gentili telespettatori, eccoci tornati con l'approfondimento di Prima News, Prima News Focus, andiamo dunque a focalizzarci proprio su un argomento di attualità e non possiamo che parlare di aumenti, ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate ma oggi in particolare ci occuperemo degli aumenti che riguardano le nostre bollette, bollette di luce, gas che davvero sono schizzate alle stelle, cominciamo proprio da lì, per poi arrivare anche al nostro carrello della spesa perché gli aumenti purtroppo li abbiamo trovati anche nel carrello della spesa e non solo, quindi faremo proprio una panoramica di questi primi mesi dell'anno. Iniziamo però parlando di energia, quindi parliamo di elettricità, parliamo di consumi che troviamo direttamente in bolletta e lo facciamo con l'ospite che è oggi in studio con me, che ringrazio, la dottoressa Jessica Campolongo dell'Unione Nazionale Consumatori Piemonte. Grazie per essere con me. Grazie a voi. Allora, che cosa è successo? Diciamo che l'associazione che lei rappresenta aveva fatto, già presente, aveva acceso un po' i riflettori sulla questione aumenti e si sono verificati. Gli aumenti che riguardano appunto, in particolare parliamo di luce e gas, quantifichiamoli un po'. Allora, gli aumenti sono stati di due, tre volte maggiori rispetto alle bollette relative agli anni precedenti nello stesso periodo. Oltretutto il problema fondamentale è che questi aumenti si verificano proprio in questi mesi in cui comunque il gas viene utilizzato per il riscaldamento, per quanto riguarda le forniture domestiche e un grande aumento è stato anche per quanto riguarda le piccole e medie imprese, le società che utilizzano energia elettrica per utilizzare ovviamente i propri macchinari. Quindi stiamo, uscire è un parolone, però da una pandemia che ha creato e che sta continuando a creare dei problemi, verso questi aumenti che sono spropositati, quindi creano difficoltà perché poi vengono emesse delle fatture spropositate perché sono aumentate anche di 100-120% rispetto agli anni precedenti, quindi è un aumento considerevole. Ecco, poi lo sappiamo che purtroppo gli eventi contingenti con la guerra tra Russia e Ucraina, speriamo vada a conclusione al più presto, non fanno che aumentare ancora di più questa problematica perché noi l'Italia è dipendente in gran parte dal gas che arriva dalla Russia e quindi sicuramente il panorama mondiale non ci aiuta in nessun modo. Ma da che cosa derivano sostanzialmente questi aumenti? Gli aumenti derivano proprio dall'aumento del costo delle materie prime, quindi proprio del gas e della stessa energia elettrica, quindi le stesse aziende che producono queste forniture hanno purtroppo considerevolmente aumentato i costi e quindi di conseguenza anche i costi di gestione di queste materie prime aumentano perché sono costi che aumentano in proporzione all'aumento del costo della materia prima, quindi questo incide molto nella fattura, perché come già in precedenza, se in una fattura molte volte il costo della materia prima risulta essere magari percentualmente inferiore rispetto ai costi fissi e ai costi di gestione, che però sono quelli che incidono principalmente. Ecco, il governo ha cercato di fare qualcosa per questo, per calmirare o comunque cercare di porre un freno, che cosa ha fatto e secondo voi, ecco, dal vostro punto di vista è sufficiente oppure le vostre proposte sono per fare qualcosa di più? Allora, il governo col decreto bollette non è venuto diciamo incontro molto nei consumatori, né alle grandi imprese, alle piccole e medie imprese. Propone una rateizzazione delle fatture in un massimo di 10 rate, che effettivamente sono poche 10 rate, se consideriamo che magari un'azienda può ricevere anche una fattura da 20-30 mila euro di energia elettrica considerati gli aumenti, quindi 10 rate si capisce bene che non sono fattivamente sostenibili. In più, altro problema era che le fatture per poter chiedere una rateizzazione sarebbero dovute scadere, cosa che in realtà la rateizzazione deve essere richiesta prima che la fattura sia in scadenza. In più, cosa non concepibile per quanto riguarda appunto le associazioni consumatori, in particolare la nostra, è che venga richiesto un anticipo del 50%, cioè che non è sostenibile se già arriva una fattura esorbitante e il soggetto sia domestico che no si trova in difficoltà a sostenere una fattura di questo importo, figuriamoci, è assurdo che possa versare il 50%. Ecco, sappiamo che parlando di privati, si sono moltiplicate anche sui social delle iniziative di protesta, del tipo tagliamoci in autonomia le bollette, cose simili, iniziative simili, delle vere e proprie campagne di autoriduzione della bolletta. Voi che cosa ne pensate? Allora, noi ovviamente consigliamo sempre all'utente di trovare una soluzione il più facilmente adattabile alla propria situazione economica finanziaria, per il semplice fatto che non pagare purtroppo non è una soluzione perché poi c'è il rischio che comunque il gestore possa staccare la fornitura, quindi rimanere senza energia elettrica e gas e oltretutto una volta che si arriva al distacco della fornitura non si può più neanche richiedere una rateizzazione, quindi ci si trova a dover pagare l'importo per intero. Quindi infatti la nostra volontà e con alcune società siamo riusciti ad addivenire a degli accordi aziendali, soprattutto la sede nazionale di Roma è riuscita a trovare questi accordi con le aziende principali del territorio, quindi in modo che si possa avere una rateizzazione più ampia da concordare direttamente col gestore, che viene valutata in base alle esigenze dell'utente e oltretutto questo anticipo del 50% è stato per alcune aziende ridotto quasi magari al 25% o al 30%. Ecco, in questi momenti si moltiplicano sicuramente le offerte, o almeno quelle che vengono proposte come delle offerte telefonate che arrivano a casa degli utenti, cambia gestore per non subire questi aumenti. Cosa possiamo consigliare a chi dovesse ricevere questo tipo di telefonata e che magari vuole appunto approfittare di quella che sembra un'offerta? Ma il nostro consiglio è quello sempre di comparare la propria offerta con quella nuova e oltretutto non fermarsi solo al costo della materia prima, cioè valutare anche i costi accessori, perché sono quelli che poi principalmente incidono. In più consiglio di fare una verifica sul portale delle offerte gestito dall'ARERA, che è l'autorità garante per l'energia elettrica, gas e sistema idrico, che prevede proprio una lista delle varie offerte più disponibili sul mercato. Quindi questo è uno dei consigli che mi sento di dare. Adesso però chiederei alla regia di mandare in onda il servizio che ci porta ad aprire un'altra pagina, quella dei consumi per esempio per l'alimentazione. Anche in questo caso i prezzi sono aumentati. Mangiare frutta e verdura non è mai stato così caro. Solo per focalizzarsi su alcuni prodotti molto amati sulle tavole italiane, per esempio i pomodori, sono aumentati del 35% e le melanzane del 37%. Lo rilevano i dati raccolti da Confagricoltura Piemonte, una delle principali associazioni di categoria di cui fanno parte produttori agricoli di tutto il Piemonte. I listini del CAT, il Centro Agroalimentare di Torino, da cui partono carichi container alimentari per la grande distribuzione, rilevano che un anno fa in questo periodo, considerando i prezzi all'ingrosso, i cavolfiori bianchi costavano 90 centesimi al chilo, mentre oggi sono quotati 1,30 euro. Le zucchine valevano 1,60 euro, mentre oggi sono a 2,65 euro. L'aumento più consistente, complici le gelate, è quello dei finocchi, passati da 45 centesimi al chilo a 2,30 euro. Rispetto alla normalità del periodo, che vede la verdura più cara d'inverno, quest'anno c'è un elemento in più che incide sui prezzi. Si tratta del costo dei fertilizzanti e della gestione delle serre. Nonostante la spinta verso un'alimentazione più consapevole e rispettosa del ciclo naturale, infatti, la maggior parte delle persone consuma la frutta e la verdura in base al proprio gusto e non prediligendo prodotti di stagione. L'unica soluzione per averli è dunque produrli artificialmente, e questo fa lievitare i costi. Da un anno a questa parte il costo dei fertilizzanti azotati è aumentato mediamente del 290%, spiega Enrico all'Asia, mentre il gas metano, utilizzato per il riscaldamento delle serre, è aumentato di oltre il 600%. In base alle rilevazioni del Servizio Tecnico di Confagricoltura Piemonte, un quintale di urea un anno fa costava 30 euro, mentre oggi supera i 95 euro. Il gas metano veniva fatturato a 0,18 euro al metro cubo, mentre oggi costa 1,20 euro. Nonostante i prezzi in aumento, però, la verdura fresca, che d'inverno si ottiene solo sotto serra, resta in testa le preferenze dei consumatori. La continua richiesta, le temperature rigide, l'aumento dei costi produttivi e le fisiologiche tensioni commerciali fanno sì che in alcuni periodi i prezzi al consumo diventino particolarmente elevati. Abbiamo visto qualche dato di Confagricoltura, sentiamo Coldiretti, invece, nella persona di Franco Ramello, responsabile economico regionale di Coldiretti Piemonte, sei d'accordo? Quali sono i dati che ha, appunto, Coldiretti? Cosa può dirci per quanto riguarda i prezzi che davvero stanno arrivando alle stelle? È così? Ma sì, sicuramente i prezzi stanno arrivando alle stelle, soprattutto in queste ultime settimane. Parliamo non tanto, soprattutto, della frutta, dell'ortofrutta fuori stagione, perché ovviamente questo è relativo, nel senso che siamo a febbraio, siamo a marzo, e quindi è necessario consumare giustamente quello che la stagione ci offre. Molto più preoccupante è l'aumento dei prezzi, riferito ai cereali, e quindi poi alla trasformazione del pane nei prodotti lievitati. Cultura da serra, quella effettivamente dove si producono ortaggi e soprattutto dove c'è la produzione di ortaggi in pieno campo. Le variabili sono tante, c'è il costo energia, quindi il costo dell'intervento per le coltivazioni di questi prodotti, ma soprattutto c'è anche il forte pericolo della persistente siccità sul nostro nord-ovest. È una siccità che sta mettendo a repentaglio la produzione del frumento tenero, in modo particolare perché ovviamente questa è la fase del periodo in cui il grano dà la maggiore copertura sul terreno e dà poi origine alle spighe che verranno poi raccolte nei primi giorni di luglio. E questo è veramente preoccupante, speriamo anche nelle precipitazioni delle prossime settimane, però ovviamente il binomio rincaria energia e siccità sta veramente preoccupando in modo forte il mondo agricolo, gli imprenditori agricoli, soprattutto su queste produzioni. Può farci qualche esempio di prezzo, più o meno così da capire, quelli che sono prodotti di cui non possiamo fare a meno, che fanno parte della nostra dieta, della nostra alimentazione? Sì, sicuramente il frumento è aumentato in queste ultime settimane, causa soprattutto in questo caso e nell'immediato della grave crisi ucraina, che ricordiamo comunque è uno dei principali produttori, è il principale produttore europeo di frumento, e quindi ci sono queste speculazioni, soprattutto queste forti tensioni sui mercati mondiali nei confronti di questo prodotto. E quindi stiamo parlando di aumenti anche del 30 e del 40% su questo prodotto, che ovviamente si ripercuoteranno poi su tutta la filiera. È importante investire sul nostro territorio, infatti non a caso, ormai da tre anni, come col diretti stiamo portando avanti una progettualità chiamata Grano a Piemonte, sono stati seminati quest'anno 7 mila etteri, è un frumento di filiera che ovviamente dà la possibilità ai nostri imprenditori di approcciarsi ai veri e propri accordi di filiera con i principali mulini del nostro Piemonte e quindi dare origine appunto a prodotti controllati e di filiera e di origine piemontese. Questo è ovviamente una soluzione, anche se piccola, ma può essere replicata su molti altri settori produttivi. Ecco, come col diretti ho letto che avete pensato anche alla possibilità di utilizzare i fondi in arrivo col PNRR per fare dei veri e propri invasi artificiali che possano dare, assicurare l'acqua che sostanzialmente le piogge non stanno assicurando. Sì, questa è ovviamente una nostra battaglia ormai da anni, e adesso ci sono questi fondi, c'è l'occasione veramente di concretizzare questi progetti. Sono progetti, e la nostra linea è sempre stata quella, di microinvasi dispersi in modo capillare sul territorio per cercare di creare queste riserve d'acqua sia per l'utilizzo in agricoltura durante i due o tre mesi estivi che sono quelli di maggior richiesta e più critici sia per le temperature estive sia per le esigenze delle culture, ma soprattutto questi invasi servirebbero anche sia a produrre energia elettrica ma soprattutto anche per governare le piene, le situazioni anche di precipitazioni molto intense alle quali ormai siamo abituati da alcuni anni in riferimento poi ai cambiamenti climatici. Quindi anche una vera e propria funzione ambientale di regimazione delle acque durante questi periodi di forti e di intense precipitazioni alternati magari a periodi molto asciutti come quello attuale. Ecco, poi c'è anche la questione dei rincari che avvengono nella filiera, no? Sicuramente un produttore viene pagato alla base molto meno rispetto a quanto poi un determinato ortaggio, comunque un prodotto arriva al consumatore finale. Anche la filiera in qualche modo dovrebbe essere rivista? Assolutamente sì, questa è la cosiddetta ripartizione solidale ed equa all'interno del valore della filiera. Ovviamente la parte più debole è sempre quella produttiva, quindi l'anello primario. Poi ci sono dei rincari oltre misura tra i vari attori della filiera fino ad arrivare al consumatore finale che è quello che poi da una parte ne fa le spese pagando di più il prodotto ma dall'altra anche il produttore iniziale è quello che percepisce di meno. Teniamo presente che ci vogliono diversi chili di grano per pagare un caffè, però ovviamente tutto questo deve essere equamente ripartito all'interno della filiera. Abbiamo calcolato come centro studi col diretti che ovviamente il 15-16% di tutto il valore del prodotto finale a scaffale viene percepito solamente in questa percentuale dal produttore agricolo iniziale. Quindi è un valore veramente irrisorio tenendo conto soprattutto del rischio di impresa e sul fatto che comunque il prodotto agricolo viene sempre fatto o quasi sempre fatto sotto la pioggia, sotto le meteore e quindi è a rischio di qualsiasi tipo di catastrofe che si può verificare. Quindi non è sicuramente una redditualità quella dell'impresa è costante ma è a forte rischio comunque. Certo. Va bene, io la ringrazio davvero. Ringrazio Franco Ramello, responsabile economico regionale di Coldiretti Piemonte per essere stato con noi in questo spazio di approfondimento. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Torniamo in studio per fare i saluti e per dare solo qualche consiglio velocissimo su come risparmiare un pochino anche a casa e abbassare le nostre bollette. Sì, magari ridurre i consumi magari spegnendo le luci di casa semplicemente. la piccola spia che c'è nel televisore magari alla sera spegnerlo. Sono piccole accortezze che però possono incidere notevolmente sul costo della bolletta. Per il gas magari cercare di utilizzare magari dei cibi anche magari capisco la stagionalità magari dei cibi come insalate magari dei cibi freschi di modo che si utilizzi magari meno il gas da cucina e per quanto riguarda il riscaldamento magari nelle ore in cui non si è presenti il casa lasciarlo al minimo ed evitare che ci siano dispersioni magari anche lasciando magari finestre aperte o lucernaie aperti che fanno disperdere appunto il calore. Bene, siamo arrivati alla conclusione dobbiamo chiudere. Io ringrazio la dottoressa Jessica Campolongo dell'Unione Nazionale Consumatori Piemonte per queste delucidazioni. Ringrazio i telespettatori che ci hanno seguito anche oggi da casa e ci rivediamo come sempre domani. Arrivederci.